Come accade in tutte le democrazie avanzate, è utile mettere sotto la lente di ingrandimento chi finanzia fondazioni e politici. Questo è importante per monitorare meglio azioni di governo che si fanno in campo ambientale, energetico, nel settore dei giochi d'azzardo, nell'informazione, nei trasporti, nei lavori pubblici. Una legittima e particolare attenzione va posta in tal senso alla Fondazione Vedrò, l'associazione di Enrico Letta, fondata nel 2005, definita una Thinknet, un pensatoio. Tra gli sponsor della Fondazione, colleghi, vera unione del governo PD-PDL, abbiamo i colossi del gioco d'azzardo, Sisal e Lottomatica. Per energia e ambiente abbiamo Enel, Eni, Edison, per i trasporti, autostrade per l'Italia, per il settore alimentare Nestlé. Ben sette personalità trasversali del governo fanno parte della Fondazione Vedrò. Il presidente del Consiglio Enrico Letta, il vicepresidente, nonché ministro degli interni Alfano, il ministro dell'ambiente Andrè Orlando, quello per le infrastrutture Lupi, il ministro dell'agricoltura De Girolamo, delle pari opportunità Idem, della salute Beatrice Lorenzin. Tutti impegnati in un legittimo disegno politico comune che cinqueta. Grazie, il tempo per gli interventi di fine seduta è limitato, ci saranno ulteriori occasioni.